E' l'ultima uscita, tra poco in passerella, la moda Sis Dendify, un nome Sis Silvia Spoto che esprime una grande passione per la moda e per l'eleganza. Sis Dendify è abbinamento ricercato con una linea in esclusiva da Roma in giù, fatta di abiti realizzati interamente a mano, rigorosamente made in Italy e impreziositi da Pietro e Paillette. Da Sis Cal che tante proposte dedicate alla moda da indossare in ogni momento della giornata con un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Entrate nel mondo Sis Dendify per scoprire oltre all'abbigliamento e le calzature ricercate anche una serie di accessori di tendenza. Sis Dendify è a Palermo via Torre Arza. e a Palermo via Torre Arza. e a Palermo via Torre Arza. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Maria Grazie a tutti 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 Grazie a tutti